Ciao ragazzi, ben tornati su Warframe e in questo video parliamo di pezzi prime e reliquie, perciò come si ottengono, che cosa sono e a cosa servono, quindi direi di partire. Dunque direi di partire subito col dire che cosa sono i Warframe Prime. Allora ragazzi, i Warframe Prime sono solamente una versione potenziata del Warframe base che vengono introdotti periodicamente nel gioco attraverso il Prime Access oppure come premi attraverso le reliquie. I Warframe Prime inoltre hanno statistiche leggermente migliorate rispetto alle loro controparte non prime e spesso presentano design elaborati. In questo caso vi faccio l'esempio di Cora, in questo caso ho un Cora normale e facciamo il paragonare tra il Cora Prime. In questo caso come armatura da 275 abbiamo 325 di armatura e energia da 125 a 150, sono dovute rimanere lo stesso, come scudo abbiamo da 100 a 125, la velocità scatto rimanere lo stesso. Inoltre un'altra cosa abbastanza importante da tenere d'occhio è che i Warframe di base vengono con tot polarizzazione. In questo caso il Cora normale, io ho messo due forme perciò togliamo due, viene totale con due polarizzazioni che sono uno della forma aura e un altro tra questi. Quindi con due polarizzazioni, mentre la versione Prime in questo caso, io ho messo una forma, vediamo. Quindi togliamo una forma, in questo caso la versione Prime ragazzi viene con quattro forme polarizzate, che non è una cosa da sottovalutare, perché risparmiate veramente abbastanza forme. Quindi, occhio. Quindi com'è che si ottengono i pezzi Prime di un Warframe o di un'arma? Allora ragazzi, la procedura è sempre lo stesso rispetto alla versione base, in questo caso se volete ottenere un pezzo Prime, in primis dovete raccogliere i loro componenti, perciò se parliamo di Warframe avrete bisogno delle neurotiche, ciassi, sistemi e lo schema. Ovviamente questi componenti sono droppabili dalle specifiche reliquie. Perciò vi faccio capire dove potete vedere effettivamente quanto reliquie avete, oppure che reliquie vi serve per ottenere un componente Prime. In questo caso vi recate vicino all'arsenale, a sinistra dell'arsenale avete questa console che è Reliquie Void. Una volta schiacciato qua vi mostra tutte le reliquie che avete attualmente, ma se nel caso vi interessa un pezzo specifico di un Warframe, in questo caso è uscito Vis Prime, se cercate Vispo vi mostra tutte le reliquie che droppano il componente Vispo. In questo caso abbiamo la reliquia Axe V3 che ci dà lo schema, la Lit V3 ci dà il chassis, la reliquia Neo D7 ci dà il sistema e infine come tutto reliquio la reliquia Meso K6 ci dà le neurotiche. In questo caso non ce l'ho come vedete. Allora un'altra cosa abbastanza importante da tenere d'occhio sono le realità. In questo caso abbiamo il comune, quindi questa parte è bronzo, la parte non comune, la parte grigia e infine il parte oro. In questo caso se cercate la parte comune, come vedete qua ha una percentuale molto elevata per ottenere uno di questi componenti. La parte non comune, come vedete qua la percentuale, è abbastanza, diciamo, non al massimo, ma avete una percentuale di droppare anche le parti non comune, quindi che è il Bronco Prime oppure il Shade Prime. E infine come pezzoro, vedete la realtà, in questo caso la realtà è raro, ok, bello, e vedete che la percentuale di droppare il Vis Prime in questo caso è veramente bassissima, quindi dovete preare a Gesù Cristo per farvi ottenere questa parte. Quindi com'è che potete incrementare la vostra possibilità per ottenere un pezzoro in questo caso? Quindi se vi serve il, vi faccio un esempio, se vi serve il pezzo Vis Prime come schema, dovete potenziare in questo caso la vostra reliquia, ovviamente qua partirete come base la parte intatta, quindi avete una percentuale molto alta per ottenere le parti comune, una percentuale abbastanza discreta per ottenere il pezzo non comune, mentre il pezzo orga dovete andare in chiesa. Quindi se volete potenziare la vostra reliquia con le tracce Void, che è questo materiale qua, che dopo vi faccio vedere dove potete farmarlo, una volta se lo potenziate, quindi con 25 tracce Void, aumenterete la possibilità di ottenere il pezzo non comune, come un pochino la parte oro, la parte impeccata, quindi se potenziate in versione impeccabile, quindi con 50 tracce Void, come vedete è salito, è salito, ok, stai fermo qua, è salito molto la versione non comune, il pezzo oro, e intanto è usciso la versione comune, e infine come ultimo potenziamento siamo alla versione Radiante, quindi con 100 tracce Void, in questo caso come vedete la versione comune è usciso veramente tantissimo, la parte non comune è salita al massimo, e infine la parte raro è salita più che può, quindi diciamo che se avrete la reliquia Radiante, se cercate il pezzo oro, avete una possibilità molto elevata di ottenere la parte oro, quindi è su 50-50. Adesso vi faccio vedere dove potete effettivamente ottenere le reliquie, una delle cose più comuni da fare ragazzi è dai sindacati, in questo caso in base a che sindacato avete, il sindacato è un sindacato, in questo caso c'è Seflon Suda, ma mi piace più la streamerita, andate su Streamerita, andate su Visualizza Offerte, e qua come vedete ragazzi, se avete pacchetto reliquico, quindi dovete spendere, 100 scusate, dovete spendere 20.000 di reputazione, in questo caso dovete spendere 20.000 di reputazione, per ottenere un pacchetto reliquico, che contiene 3 reliquie casuali, o AIA, che è un materiale strontro, lasciate stare, allora acquista, quant'è acquista? OLE, vi da la reliquia Axie H6, idrin, oh strontro, eh no, sono sfigato ragazzi, non mi ha dato la reliquia di vispo, va bene, comunque, vi hanno roppato 3 reliquie, fatto, questa qua è una cosa molto comune da fare, quindi se possedete in questo caso, come me, 4 reputazioni dei sindacati, se avete tutto full ragazzi, le reliquie lo fate veramente, in un batter d'occhio. Vi faccio vedere un altro metro, per far barare velocemente le reliquie, in questo caso parliamo, dalla missione nel Void, andate sulla missione Epit, quindi una missione a cattura, a livello bassissimo, 10-15, entrate in missione, stendete il bersaglio, lo catturate, e finita la missione, una volta che avete completato la missione, come ricompensa, avrete un 100% che vi dia una reliquia lit, successivamente, parlando sempre nel Void, adesso passate alla missione Ugo, quindi sempre a cattura, un po' più elevato i livelli, quindi 30-35, fate la stessa cosa, come avete fatto nella missione Epit, quindi sentete il bersaglio, catturate, e finita la missione, e come ricompensa, anche per questa missione, è garantito che vi dia una reliquia, però in questo caso, avete un 50-50, che vi dia una reliquia di grado meso, oppure Neo, successivamente, passando all'ultima reliquia, quindi la reliquia Axie, la migliore missione che vi consiglio, ragazzi, è la Disturbo sulla Luna, in questo caso, in tante missione, fate i 4 condotti, come ricompensa, di aver fatto i 4 condotti, vi dia una reliquia Axie, e infine, come ultima cosa da fare, è quello di aprire la reliquia, che avete formato ovviamente, però in primis, vi consiglio di cambiare la lingua, se siete stata la console, andate sull'impostazione, lingua, e mettete da lingua italiana, a quella dei United States, quindi in America, fate ciò, entrate su Warframe, andate sull'impostazione del gioco, e fate come sto facendo adesso, in questo momento, andate su sistemi, e come regione, mettete Nord America, e come limiti, fate non limiti, per sicurezza, ok? Quindi, perché vi ho detto, di cambiare la lingua, del vostro gioco, e puttanate vale, per il semplice fatto, che in America, in primis, ci sono molti più giocatori, quindi avete un'alta possibilità, di trovare, gli altri giocatori, che vuole aprire, la stessa reliquia, che state cercando, in questo caso, andate sulla chat reclutamento, come è stato venuto adesso, scrivete, o scrivete H, che sarebbe hosting, oppure LF, che sarebbe looking for, quindi cerco, successivamente, scrivete il nome della reliquia, in questo caso, vuole aprire l'Axi, U3, quindi Axe V3 Relic, successivamente, scrivete la realità, quindi intatto, eccezionale, impeccabile o radiante, in questo caso è radiante, e infine, come ultima inserzione, il componente della vostra squadra, in questo caso, se state da solo, non scrivete niente, ma se state in due, scrivete 2 su 4, oppure 3 su 4, oppure 4 su 4, e che cazzo ne so, capite? quindi una volta che avete trovato la vostra squadra del cuore, diciamo, andate nella missione Fratture Void, come state vedendo adesso, selezionate il tipo di reliquia che volete aprire, in questo caso, l'Axi, e una volta che avete scacciato, mettete la reliquia che vi siete accordati con la vostra squadra, mettete la realtà che avete detto, e iniziate la missione. una volta entrati in missione, l'ho completata come se fosse una normalissima missione, qua cambia solamente che dovete collezionare i reagenti, come vedete qua in alto a sinistra, 0 su 10 reagenti, e dovete arrivare a 10 su 10 per aprire la reliquia, in questo caso, questi reagenti si troppano da questi nemici oro, ok possiamo dirlo, le uccidete, e hanno a presenza in toa di rilasciare i reagenti. Fatto anche quello, finita la missione, una volta che avete finito, la vostra squadra dovrebbe avere in totale 10 su 10 dei reagenti, e aprite la reliquia, e qua dovete assolutamente pregare per prendere il vostro pezzo. Quindi anche per questa guida è finita, come al solito, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like per qualche domanda, scrivete qua nei commenti, e ci vediamo al prossimo video, ciao ragazzuoli!